Ecco la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori quando stamattina verso le 11.30 hanno raggiunto la contada Grigioni di Castione and Evenno. Un'auto, una Citroen C3, seriamente danneggiata, adagiata su un fianco vicino a un fabbricato che si trova proprio alle porte della contrada. Al volante una donna di 31 anni. In pochi minuti sul posto è intervenuta d'urgenza l'equipe medica con le ambulanze e l'elicottero, decorato dalla superficie di Caiolo. Le ambulanze atterrate in un prato poco distante. Impegnati nei soccorsi, il vigile fuoco del comando provinciale, il personale della polizia, stradale di Sondrio. La donna, sondriese di nascita e di casa nel paese eretico, è stata estratta dall'abitacolo. Poi con una barella è stata trasportata fino all'elicottero che poco dopo si è levato in volo per raggiungere l'ospedale di Sondrio. Un ricovero in codice giallo. La 31enne fortunatamente non sarebbe grave. La dinamica al vaglio della polizia stradale che per effettuare i rilievi ha utilizzato strumentazioni all'avanguardia. Secondo una prima ricostruzione l'auto scendeva dalla via Ziovanoni e giunta a questo tornante è andata dritta, andando a schiantarsi contro il muro del fabbricato. Un impatto violento. Sull'asfalto non ci sono segni evidenti di frenata.